Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video di Niki The Farmer. Ebbene sì ragazzi, come leggerete dal titolo, oggi parleremo di porcini d'India. Come si allevano? Partiamo subito. Primo punto molto importante del porcino d'India è l'alimentazione. Cosa mangia il porcino d'India? Il porcino d'India va ad avere un'alimentazione di frutta e verdura. Mangia una cosa molto importante, è che deve mangiare la vitamina C. Quindi diamogli un sacco di frutta che ha la vitamina C, perché il suo corpo non la riproduce e quindi richiede un sacco di vitamina C. Quindi ragazzi diamogli un sacco di frutta che contenga la vitamina C. E diamogli anche i peperoni ragazzi, perché i peperoni vanno a avere un sacco di vitamina C e in più i porcini d'India vanno a mangiarlo con molto piacere il peperone. Secondo punto molto importante dell'allevamento dei porcini d'India è la gabbia. Deve avere delle dimensioni della gabbia molto molto grosse, perché comunque il porcino d'India non rimane piccolo, ma diventa di belle dimensioni. Quindi vi consiglio un sacco di metterlo in delle gabbie grosse, perché la gabbia più grossa è e più tranquillo sarà il porcino d'India, più sicuro sarà. E soprattutto lo vedrete molto più allegro. Terzo punto ragazzi, uno dei più importanti di tutti, sono ci posso instaurare un rapporto con i porcini d'India. Certamente, il porcino d'India è uno dei roditori più assolutamente più bravo e più docile. L'unica cosa che vanno guardati in molti lati su come adomesticarlo. Innanzitutto dobbiamo comunque averci una gabbia grossa, come vi ho detto, perché se avrà una gabbia piccola si sente sempre spaventato. Poi per addomesticarlo avrà bisogno di una gabbia con una tana, in modo che quando ha paura si possa andare a nascondere. Poi per addomesticarlo i passaggi sono, per un periodo li parliamo con un tono di voce molto basso, li raccontiamo storie, in modo che lui si abitua a sentire la nostra voce. Poi piano piano cominciamo a leggergli sempre una storia, a parlargli, ma dandogli la mano all'interno con il mangiare, diciamo, nelle mani. In modo che il porcino d'India vede un pochino la nostra mano e capisce che è una cosa buona perché gli diamo da mangiare. E in più sente la nostra voce che lo calma, lo tranquillizza. A quel punto, ragazzi, che ha esaurato questa fiducia in noi, possiamo cominciarlo a prendere e metterlo in questi recinti che proprio vendono. In casa, appunto, li puoi mettere questi recintini che sono recintini che li puoi smontare e rimontare. E noi ci mettiamo all'interno con lui e facciamo un sacco di cose con lui, le nostre cose quotidiane, tipo, non so, leggiamo un libro, studiamo. Però lo facciamo all'interno di questo recinto, in modo che il porcino d'India stia con noi ogni momento e si abitua, appunto, a proprio sentire la nostra voce e interagire con tutto il nostro corpo e non più solo con la mano. A quel punto, ragazzi, possiamo, piano col tempo, dire che l'abbiamo addomesticato perché sarà come un cagnolino, sarà perché quando tu lo prendi sta con te, però, ovviamente, ragazzi, ci vuole molta pazienza, come tutti gli animali. Altro punto molto importante è, può stare con più esemplari? Allora, sicuramente sì, può stare con più porcelini d'India. Io vi consiglio di mettere sempre, tipo, quattro femmine, magari tutti maschi, però mai mettere due maschi e due femmine. O una femmine e due maschi. Perché i due maschi, avendo le femmine, cominceranno a picchiarsi, lottarsi per la gerarchia, per la conquista delle femmine. Quindi continueranno a mordersi, diciamo, litigarsi e si rischiano anche di fare male. Quindi, ragazzi, vi consiglio, importantissimo, mettere sempre o più femmine o un maschio più femmine, oppure tutti maschi. Perché se ci fosse due maschi e la femmina si potrebbero litigare e si possono anche far male. Ultimo punto molto importante è, posso, diciamo, tenerlo all'esterno, non per forza in casa. Sicuramente è un animale che può vivere in due modi, in casa e fuori. Sicuramente se vive fuori avrà bisogno di fieno e trucciolato molto di più, perché d'inverno avrà, se no, poi richiederà del caldo. E quindi avrete bisogno di riscaldarli. Per riscaldarlo potete dargli tanto fieno in modo che lui si riscaldi col fieno. E in casa anche si può tenere, perché è un animale che può vivere anche in casa. Il consiglio che vi do io, ragazzi, è, se volete instaurarci un rapporto, tenerlo in casa. Se volete tenerlo per vedere i suoi comportamenti, diciamo, vedere più il comportamento del porcellino d'India fuori. Perché fuori lo vedete di più. Ricordatevi che è un roditore notturno, come tutti, praticamente. È un roditore erbivoro e è notturno, quindi se non lo vedete di giorno non vi preoccupate, perché farà tutto di notte. Quindi quando volete, diciamo, starci di più con lui, è meglio la sera tardi, perché lui è molto più attivo. Invece di giorno, diciamo, che dorme. Quindi ragazzi, per questo può essere tutto. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Lasciate un bel like. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao! Ciao!